E ciao a tutti ragazzi sono Joseph 15 con la mia aiutante Giada Sì Giada Oggi andremo a fare un nuovo video delle magiche storie sonore Disney Vi ricordate ai bambini che avevamo preso il numero di Frozen Una delle prime uscite e Frozen 2 Adesso non hanno fatto Frozen 3 ma hanno fatto Frozen Fever Siamo con la 82esima uscita Ok adesso andremo ad aprire questo nuovo libro Ok Giada adesso mantieni tu la fotocamera Se vedi che sta traballando mantienila ok bambi Adesso andiamo ad aprire uno di questo nuovo numero delle magiche storie sonore Disney Ok sto pronti io Aspetta Giada ho già fatto Ok bambini andiamo Ok bambini abbiamo cambiato idea al posto di fare con il libro facciamo prima questo bambini Ok andiamo a scartarlo E adesso la mia aiutante Giada lo tirerà fuori La Giada tirerà fuori Vediamo prima questa cosa che non sembra nulla Già prendiamo il nostro personaggio Guardate Sì bambini vedete E Anna vedete come sta bene insieme a Frozen Frozen 2 Frozen Frozen 2 e Frozen Fever Insieme sono molto belle giusto Giada Sì Frozen 1 Frozen 2 e Frozen 7 No 7 Feather Vabbè Adesso andiamo a vedere il nostro bellissimo libro giusto Giada Sì ragazzi è molto bello Ok bambini tu la conosci la storia di questo bambini voi la conoscete la storia di questo film Perché io e Giada non la conosciamo giusto Non l'abbiamo mai visto giusto No no Abbiamo visto Frozen 2 e Frozen 1 Sì abbiamo visto Frozen e Frozen 2 Soltanto bambini che Frozen Fever non l'abbiamo davvero mai visto Frozen Fever Quindi oggi lo conosceremo Ok siamo arrivati a fine storia E adesso è ora di andare a prendere il nostro magic box che stava per essere ucciso Ok lo accendiamo Prendi il personaggio Giada e diamo via alla magia Frozen Fever La regina Elsa è emozionata Oggi si festeggerà il compleanno di sua sorella Anna Ormai in più è fatto Si sta solo occupando degli ultimi preparativi Con la sua magia del ghiaccio Crea due piccoli ritratti di lei e Anna E li sistema con attenzione sulla torta che ha preparato Poi toglie una macchia di colore dal viso del suo amico Christophe Che ha dipinto uno spriscione di buon compleanno Perché ogni cosa deve essere perfetta oggi Ma non tutto va per il verso giusto Olaf il buffo pupazzo di neve ha appena assaggiato la torta Eteranna lo rimproverà Elsa con un sorriso Non si mangia per adesso Poi si allontana facendo a Christophe le ultime raccomandazioni Che non entri nessuno finché non siamo pronti Bambini non so perché bambini E noi l'abbiamo caricato al 100% il magic box Scusate bambini scusate vi dico Però il magic box era carico Perché non va? Si è bloccato è ritornato tutta dall'inizio Chissà perché Forse c'è qualche difetto Giusto Giada? Sì giusto Vabbè bambini Vabbè bambini Già la mia assistente Giada mi ha proposto Che ve la posso leggere io Vabbè posso pure farlo Giada ok? Vi leggo un'altra pagina Qui diceva tranquillo risponde l'amico Tranquillo risponde l'amico Poi qui dice Sì è l'ora Elsa va a svegliare Anna Che dorme ancora Tanti auguri le canta Alzati su Alzati su E la principessa si alza Tutta spettinata È il mio compleanno esclama Elsa annuisce Sicura di sé Sarà Sarà tutto perfetto Oh Anna è davvero entusiasta E corre a vestirsi Ma proprio in quel momento Succede che Che una cosa davvero strana Stranissima Magica Quindi Bambini Avevo detto che avrei letto solo un'altra pagina Però Siccome già sto diventando curioso Voglio continuare a leggere almeno un'altra pagina Oppure almeno finisce Oppure almeno finché finisce la cosa magica Elsa starnutisce E due piccoli pupazzi di neve Appaiono all'improvviso E subito scappano Senza Senza che nessuno li veda Anna guarda interita A la sorella Ha perso un bel raffreddore No ha perso Ha preso un bel raffreddore Elsa non si preoccupa Con un gesto magico Si cambia d'abito E rende quello della sorella Ancora più bello E splendente La ritocca anche Anche La L'acconciatura Anna non crede ai suoi occhi Ma le sorprese Non sono finite Oh se le sorprese non sono finite Voglio continuare a leggere Sei d'accordo Giada? C'è un filo rosa Che pende Da un mobile Elsa sorride Misteriosa E lo porge Alla sorella Segui il filo Le dice È una bella idea Anna comincia Lungo i corridoi Salta sulle sedie Passa sotto i tavolini Seguendolo Seguendolo e seguendolo Ancora Che cosa Che cosa troverà Lungo il filo Dei regali Dei regali Per cominciare Un braccio a letto Elegantissimo Poi un orologio a cucù Che al posto dell'uccello Dell'uccellino Ha un piccolo Olaf Vabbè Vabbè bambini Abbiamo letto Diciamo metà della storia Purtroppo il magic box Non è funzionato Chissà perché Forse non è stato registrato bene Questa storia Vabbè Io ero proprio curioso Di leggerlo Vabbè Comunque ragazzi Se vi è piaciuto anche oggi Un video Mettete mi piace E se non volete Perdervi dei video Dillo tu Iscrivetevi Al canale E come sempre Ci vediamo Alla prossima Sì bambini Quindi avete capito bene Se volete Praticamente Iscrivervi al canale Quando vi esce questo video Cliccate sopra Il video Ma cliccate anche Sopra il canale E poi Basta che Vi esce la scritta Iscriviti Voi lo cliccate E vi iscrivete Se volete essere aggiornati Lo fate Ok bambini Oh Se vi iscrivete Non vi esce subito La notifica Dovete attivare La notifica E poi Potrete Iscrivervi al canale E quindi Iscrivetevi Così E attivate la notifica Così non potete Perdervi Manco un video Da Joseph 15 E da Giada Vi salutiamo Ok Ciao Ciao Bambini Mi sono dimenticato Di dirvi una cosa Vedete Frozen Fever Frozen e Frozen 2 Insieme Sono bellissimi Giusto Vabbè Vi salutiamo Ciao 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 Grazie a tutti.